Dal Vangelo secondo Giovanni Una buona domenica a tutti. Lungo il corso dei secoli, nella storia dell'umanità, la maggioranza degli uomini ha creduto nell'esistenza di un Dio che dava la ragione dell'esistenza di questo universo. L'hanno chiamato con vari nomi, lo hanno immaginato in modi molto diversi. Per qualcuno è un essere che non è nemmeno persona, ma un assoluto del quale anche noi facciamo parte, perché questo universo è già Dio in sé, il panteismo. Chiaro, se questa è l'immagine di Dio che si ha in mente, non si dialoga con questo Dio, non si prega un Dio così. Per molti è una persona, ma non si interessa di noi. Pensiamo agli dei dei greci, gli dei pagani. Non erano coinvolti in un rapporto d'amore con gli uomini. Erano addirittura gelosi della gioia, della felicità degli uomini. Si tenevano la vita per sé e gli uomini dovevano servire gli dèi, offrendo sacrificio. E poi qualcuno l'ha immaginato anche come un Dio bellicoso, vendicativo, amico magari di un popolo e nemico degli altri popoli. Del resto tutte le guerre dei popoli dell'antichità non erano solo degli scontri fra due popoli, ma ognuno aveva il proprio Dio che lottava contro il Dio del popolo nemico. Ecco, non basta allora credere in un Dio. L'importante è sapere in quale Dio si crede, che immagine di Dio si ha in mente. È un padre che si interessa della nostra vita o un padrone che cerca sudditi che lo devono servire? Gli islamici dicono Dio è un creatore e abita lassù, lontano dagli uomini. Dio è grande, l'uomo, confronto a Dio è polvere e cenere, ha dato la sharia e poi aspetta per valutare la vita di ognuno con premi e castigli. Gli ebrei, al contrario, affermano che Dio non sta lontano, cammina con il suo popolo, non può stare lontano dal suo popolo. E quando Israele va a finire schiavo a Babilonia, il profeta Ezechiele vede l'arca dell'alleanza che parte dal Tempio, va là sul Monte degli Olivi e poi si avvia verso oriente perché là è il suo popolo. Il Dio di Israele non è come il Dio dei musulmani, è lontano, no, è un Dio che vive con il suo popolo. Ecco, e noi cristiani, qual è l'immagine del Dio cristiano? Oggi celebriamo l'aspetto specifico della nostra fede. Noi crediamo in un Dio Trinità, ma stiamo attenti a impiegare questo termine che non è biblico, è un tentativo, è incommiabile di formulare, secondo i nostri criteri filosofici, in modo razionale, una verità che è presente nella scrittura, ma stiamo attenti a impiegare questo termine. Non è biblico. La Bibbia non fa ragionamenti su Dio, ma racconta ciò che Dio fa. Ci dice qualcosa della sua vita intima che è presentata come una comunione d'amore. Parla del Padre, da cui tutto ha origine, questo Padre che si riconosce nella sua perfetta immagine che è amore e solo amore, questa immagine noi la conosciamo perché si è fatta vedere facendosi uno di noi e abbiamo visto l'incarnazione di questo amore e poi ci parla dello Spirito che è la vita di questo Dio che è fatto di amore, che è tutto e solo amore. Ci interessa questa vita intima di Dio perché nel suo disegno ci ha destinati fin dall'eternità ad essere introdotti in questa sua vita d'amore. È il nostro destino di gioia infinita che è raccontato nella lettera agli Efesini in un inno stupendo che era cantato nel primo secolo dai nostri fratelli di fede delle comunità dell'Asia minore. Lo conosciamo bene. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere coinvolti nella sua vita di amore e ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi. Solo in questa prospettiva, solo se questo è il nostro destino, la nostra vita ha un senso. parlando con Nicodemo Gesù aveva detto che era necessario nascere dall'alto Nicodemo non aveva capito, aveva equivocato questo dall'alto e aveva pensato che significasse nascere di nuovo non capiva perché Gesù avesse detto che bisognava nascere di nuovo. Gesù non aveva detto nascere di nuovo ma nascere dall'alto Nicodemo capisce che sarebbe stato inutile anche se fosse possibile rinascere sarebbe stato perfettamente inutile perché si rinascerebbe in questa condizione che è chiamata nella Bibbia carnale cioè ancora una vita fragile destinata alla morte perché appartiene ancora a questo mondo e anche con una rinascita seguiremmo ancora il destino di ogni forma di vita che vediamo sulla Terra i microrganismi le piante gli animali gli uomini il Coelet aveva ragione e quando diceva che la sorte degli uomini e quella degli altri viventi è la stessa muoiono tutti perché questa vita biologica appartiene alla realtà del mondo Coelet dice il soffio vitale è uno solo è uguale per tutti per le piante per gli animali e per gli uomini ecco il messaggio che caratterizza la fede cristiana gli uomini hanno ricevuto in dono una vita che non è quella di questo mondo è la vita stessa dell'Eterno questo è il messaggio che ci è stato dato e allora il messaggio che vogliamo cogliere in questa festa della Trinità è ciò che decide il senso del nostro esistere noi non siamo destinati alla morte biologica come tutti questa avviene ma non è il nostro destino perché abbiamo ricevuto lo spirito di Dio che è la sua stessa vita e il nostro destino è quello di essere introdotti nella vita dell'Eterno nella vita di amore della Trinità e il brano che ascoltiamo tra poco e commenteremo è preso dal discorso di Gesù durante l'ultima cena per cinque volte durante questa cena Gesù parla di questo dono dello spirito e afferma che sarà lo spirito a portare a compimento il progetto del padre e quella che ascoltiamo nel brano di oggi è la quinta di queste promesse di inviare lo spirito promesse che Gesù ha fatto durante l'ultima cena ascoltiamo in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli molte cose ho ancora da dirvi ma per il momento non siete capaci di portarne il peso quando quando verrà a lui lo spirito della verità vi guiderà a tutta la verità perché non parlerà da se stesso ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future il Vangelo di Giovanni lo sappiamo che non è facile perché non ci sono parabole ma concetti teologici molto profondi e anche il brano che abbiamo appena ascoltato va capito in profondità non vogliamo perdere la ricchezza spirituale di questo testo Gesù dice che avrebbe ancora molte cose da dire ma i discepoli non sono in grado di portarne il peso avrebbe molte cose da dire l'interpretazione più immediata di queste sue parole ci porta a pensare che lui ha avuto i suoi tre anni della vita pubblica non sono bastati per dire tutto quello che doveva dire sulla verità su Dio sull'uomo ma Gesù non dice che non c'ha più tempo dice che i discepoli non sono in grado di portare il peso di queste verità che lui vorrebbe annunciare ma non lo può fare i discepoli non sono in grado di portare il peso di queste sue parole non riuscirebbe a farle capire ai discepoli di che cosa si tratta qual è questa verità che lui non può spiegare ai discepoli perché non sono in grado di sopportarla è chiaramente il dono della vita che lui sta per dare la morte di Gesù condannato come eretico bestemmiatore sarebbe un argomento troppo pesante per le loro deboli forze davvero difficile anzi per loro impossibile capire che solo la vita donata è vita divina vita che rimane per l'eternità e Gesù continua dicendo io non ve lo posso spiegare questo è un compito che sarà svolto dallo spirito della verità lui vi guiderà dentro tutta la verità questa verità e io non posso annunciarvi perché è troppo pesante per voi in questa verità vi introdurrà lo spirito non sarà Gesù a spiegare il senso della sua passione d'amore sarà lo spirito in questa verità entreranno dopo la Pasqua e lo spirito non avrà il compito di dire qualcosa in più di quello che Gesù ha già detto ma sarà quello di far comprendere ai discepoli tutta la verità che si è realizzata in Gesù di Nazareth ma non sarebbe sufficiente che lo spirito facesse capire il senso del dono della vita lo farà i discepoli comprenderanno il senso di questo gesto di sommo amore compiuto da Gesù ma non basta averlo capito è necessario poi lasciarsi coinvolgere in questa proposta che Gesù fa di uomo nuovo una proposta che lui ha fatto non solo a parole ma ha fatto con la sua vita l'uomo riuscito il figlio di Dio è lui e chi compirà allora quest'opera di introdurre cioè di coinvolgere la vita delle persone perché diano adesione a questa verità non basta averla capita bisogna aderire a questa proposta di uomo nuovo l'uomo vero colui che dona la vita per amore accade qualcosa di simile all'innamoramento una ragazza può incontrare un giovane conoscere tutto di lui se in lei però non scatta la scintilla dell'amore che la spinge a legare tutta la sua vita a questo giovane le serve a poco tutta la sua conoscenza bene potremmo conoscere tutto sulla vita di Gesù capire il senso della sua vita e questo è opera dello spirito che ci fa capire che una vita donata è una vita riuscita ma poi bisogna dare l'adesione bene anche questo impulso dice Gesù viene dallo spirito non solo conoscere tutto di Gesù conoscere il senso della sua esistenza ma lo spirito è anche quella pulsione interiore che ti porta a lasciarti coinvolgere in questo dono di amore e poi continua Gesù dicendo che lo spirito annunzierà le cose future che cosa significa che lo spirito annuncia le cose future anche qui la nostra interpretazione più immediata è che ci farà prevedere il futuro come un mago che predice ciò che accadrà ecco il futuro che lo spirito farà vedere è questo mostrerà ciò che ha senso in futuro cosa rimarrà di una vita apparentemente oggi alla vita si dà un certo valore che è quello che rispecchia il modo di giudicare degli uomini ma guarda avanti guarda al futuro lo spirito ti farà capire quello che vale e ciò che invece è spregevole che non conta nulla non rimarrà nulla di una certa vita lo spirito ti farà capire per esempio che Gesù ha ragione quando dice a che serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi rovina la sua vita cosa rimane di tutte le ricchezze che ha accumulato lo spirito ti fa capire guarda che lui ha ragione giocati la tua vita sulla sua proposta guarda avanti guarda ciò che rimane di una vita ecco questo è il compito dello spirito farti capire ciò che rimarrà della tua esistenza e ora viene la parte del discorso in cui Gesù spiega come attuerà lo spirito lo spirito mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà tutto quello che il padre possiede è mio per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà continuiamo a esaminare questo testo che ha una ricchezza spirituale immensa dice Gesù che lo spirito lo glorificherà lo spirito glorificherà Gesù e che cosa significa questo glorificare per noi significa applaudire esaltare magnificare nulla di tutto questo quando quando è che Gesù viene glorificato e che cosa significa questo verbo glorificare nel Vangelo secondo Giovanni Gesù ha glorificato il Padre cioè ha mostrato il vero volto di amore del Padre nessuno aveva immaginato un Dio nella realtà di un Dio che ci è stato presentato da Gesù sul suo volto è brillato in modo perfetto questo volto e il culmine è stata la passione d'amore rivelata sulla croce il Calvario per gli uomini è l'oscuramento della gloria di Dio il Dio in cui loro credevano e lo ricordiamo che ai piedi della croce quando insultano Gesù gli dicono scendi dalla croce e noi crediamo che tu riveli il volto di Dio che sei il figlio di Dio se fosse sceso dalla croce avrebbe confermato la gloria del loro Dio quel Dio che punisce coloro che si ribellano contro di Lui era l'idolo Gesù ha glorificato il padre perché ha mostrato che il padre non era quel Dio che loro immaginavano è un Dio che è amore e solo amore e sulla croce ci ha detto qualunque cosa voi facciate contro di me io risponderò sempre dicendo che vi amo non riuscirete a farmi dire altra parola che vi amo questa è la gloria che ha dato Gesù al padre ha rivelato il suo volto di amore adesso che cosa fa lo spirito dice Gesù glorificherà me cioè questo spirito presente nei discepoli spirito che attua nei discepoli che è lo stesso spirito di Gesù quello spirito che ha portato Gesù a donare la vita per amore a non pensare mai a se stesso ma solo alla vita e alla gioia dei fratelli questo stesso spirito attua nei discepoli e attuando nei discepoli se i discepoli non si oppongono a questo impulso dello spirito questo spirito glorifica Gesù cioè dentro di noi mostra le opere di Gesù che sono tutte opere di amore e poi continua Gesù dicendo e impiega un verbo che è ripetuto per tre volte questo spirito prenderà di ciò che è di Gesù e lo annuncerà questo verbo annunciare ananghello che significa anche annunciare di nuovo rianunciare che cosa significa questo spirito parla annuncia è presente nel discepolo che è la vita divina che è stata donata parla e suggerisce ogni comportamento nella vita che saranno sempre delle scelte di amore bene Gesù dice che bisogna ascoltare questo spirito e per ascoltarlo bisogna fare silenzio mettere a tacere il modo di ragionare del mondo mettere a tacere ciò che ci viene suggerito che non viene dallo spirito viene dalla carne viene dalle passioni perché dice Gesù lo spirito annuncerà ciò che lui ha detto ma lo annuncerà come non ripetendo quel che Gesù ha detto questo lo conosciamo già bene se abbiamo letto il Vangelo se lo abbiamo meditato lo riannuncerà cioè lo annuncerà al nostro cuore lo farà diventare nostra vita ci spingerà a tradurre in vita concreta in vita di amore quel messaggio che è quello di Gesù di Nazare ecco allora la conclusione del messaggio di questa festa lo spirito che ci parla proviamo a chiedere chi pregano i cristiani con chi dialogano i cristiani non quando ripetono formule di preghiera ma quando pregano realmente cioè dialogano con Dio a chi si rivolgono beh molti si rivolgono ai santi questa non è ancora preghiera la preghiera è quando si dà del tu a Dio a chi si rivolgono si rivolgono al Padre i cristiani si rivolgono a Gesù di Nazareth parlano con Lui gli confidano i loro cruci le loro gioie i loro problemi c'è qualche cristiano che dialoga con lo spirito che lascia parlare lo spirito dentro di sé lo ascolta parla con Lui per lasciarsi guidare dallo spirito prendiamo coscienza e interiorizziamo la rivelazione della vita divina nella quale siamo destinati a essere coinvolti per tutta l'eternità abbiamo ricevuto questa vita divina questo spirito che ci ha coinvolto nella vita della Trinità questa è la grande verità che è l'unica che dà senso al nostro esistere auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana grazie a tutti